l'hard bc di francesca bentornati a casa mia ma non vi capita di pensare che visto tutti i panni da stirare viva con voi in casa qualcuno che non avete mai incontrato dopo guardare nell'armadio ma fortunatamente hard ci viene in aiuto con i suoi prodotti per la casa house style le camice il terrore di tutte le donne che si avvicinano al ferro da stiro io ho scoperto lo stira camice automatico house style l'utilizzo è semplicissimo basta posizionare la camicia sul manichino cominciamo dalle maniche la bottoniamo e sistemiamo il colletto abbiamo sistemato la camicia ricordatevi che deve essere umida o potete inumidirla voi va bene anche per le polo t-shirt manica corta tre quarti canotte quello che volete e in pochi minuti basta azionarlo e la vostra camicia sarà perfettamente stirata però lo stira camice house style non fa una piega e lo trovi da hard grazie a tutti